Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. È un momento triste per Giulia Delellis. Ha deciso di fare un triste annuncio sul suo profilo Instagram. La donna infatti è stata colpita da un dolorosissimo lutto mentre non si trovava a casa ma bensì in vacanza. L'influencer infatti si trovava in vacanza in Ibiza, meta rinomatissima in questo momento. Insieme al compagno Carlo Beretta, il vice direttore dell'omonima fabbrica di armi. I due si sono conosciuti per lavoro ed è stato proprio Andrea Damante a presentarglielo. Un rapporto di amicizia che si è trasformato in un amore unico. L'influencer ha trascorso una vacanza paradisiaca insieme al fidanzato almeno fino a poche ore fa quando è arrivato il triste annuncio. Nelle ultime ore la donna ha aggiornato i fan annunciando la morte del suo cagnolino Tommaso. Il cucciolo di razza Spitz di Pomerania aveva da poco compiuto tre anni ed aveva già dei gravi problemi di salute come annunciato da Giulia Delellis. Tommaso era finito sotto ferri per un'importante operazione chirurgica che era stata annunciata dalla padrona. Un intervento che era riuscito ma che purtroppo non ha arginato il problema di salute del cane che in queste ore è deceduto presso la clinica. L'influencer ha annunciato la scomparsa con queste dolorose parole, addio amore mio.